Ciao a tutti amici Nero Azzurri, finalmente è tornata la Serie A, 115 giorni dopo quando l'Inter torna a toccare in partita ufficiale il terreno di gioco di MES, non 127 come ha detto nello scorso video, meglio due video fa perché lo scorso video è il commento post partita di Inter San Doria che è appena iniziata, incrociamo le dita, per tornare a meno 6, è la partita di recupero tanto famosa che si doveva giocare quando si è giocata, ci siamo, ovviamente da casa, dai. Pagani ne puoi paga! Quella è reangla ancora.. Quella chea così! Si! E' biappe! Ci sono io la guardano.. Con la mexicola, tra l'altro quella della cosa, eh? Chiedeni di acercero. Ciao che Bob ci sono anch'io eh? Ah 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 ah! credo no a il 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 guarda 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 cosa c'è scritto cosa c'è scritto qualcosa di papà qualcosa di papà è il toro è il toro nel primo gol il tacco nel secondo la rete che sigla il raddoppio per l'inter queste sono le voci che girano ma l'autaro oggi segna e abbraccia Romelu Lukaku è 2 a 0 per noi finisce qui il primo tempo tra Inter e Sampdoria Romelu Lukaku e Lautaro Martinez 2 a 0 i due attaccanti decidono il primo tempo dominato nettamente da noi adesso un quarto d'ora e si ritorna in campo dai eccoci qua è iniziato il secondo tempo si parte di tutta del lungo tempo oh cosa c***o ponna cosa ha fatto cosa ha fatto non ha parole non ha parole come si fa come si fa a sbagliare questa roba come si fa a sbagliare questa roba vedi da calci vero c***o no vacca a porto giunta non ha parole cioè raga abbiamo stoppato cioè per sbagliare perché abbiamo stoppato la partita abbiamo stoppato la partita quando era il colpo di testo visto qua torsby e 2 a 1 per la santa siamo che a correre si riapre la partita e stiamo attenti perché non vorrei pareggiarla non so voi tira 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 ma ragazzi ma stiamo smacchendo ma questo è sul toccato di Serie A non lo sto facendo finisce qui è 2 a 1 per noi Romelu Lautaro si torna a meno 6 adesso tutti quanti con 26 partite giocate e mancano 12 la prima è andata la Serie A è tornata l'Inter torna a vincere torna alla vittoria e adesso si giocano in tre giorni quindi mercoledì ci sarà alle 19.30 il Sassuolo sempre a Sassino ovviamente a Portechius quindi andando in quadri un po' i tifosi virtuali è una vittoria importante è una vittoria che ci voleva e adesso passo dopo passo tre giorni dopo tre giorni speriamo adesso c'è il Sassuolo questo era il nostro video reaction di Inter Sassuolo se vi è piaciuto mettete la commentata condividete iscrivetevi al nostro canale YouTube attivate la camera per tutti i nostri video passate a tutti i nostri inseriti in descrizione anche quella del nostro grafico forse in te non ci vediamo prossimo bella